Ciao ragazzi, per te che vai veloce o per te che vai di fretta questa serie è nata, ti lascio il link giù in descrizione vai a vedere per quale motivo è nata, ne ho già parlato, è nata questa serie per te che vai di fretta che cerchi quell'esercizio veloce senza troppe spiegazioni, ok? Ce l'hai! Quindi non hai motivo per non iscriverti al canale o lasciare un mi piace? A parte tutto ragazzi, sono tre semplici esercizi basilari con la schiena a terra, quindi generalmente li possono eseguire chiunque si possono inserire prima dell'allenamento, dopo il tuo allenamento o all'interno del tuo allenamento o della tua scheda mi raccomando prima riscaldati bene, se vuoi qualche esercizio di riscaldamento articolare che te lo consiglio sempre cercati o al massimo ti lascio il link giù in descrizione io ti dico ancora grazie di aver guardato questo video ancora una volta, allenati bene, alla prossima! Ciao! 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 Ciao!